Deputati e senatori lucchesi convocati dalle associazioni di categoria. Sul tavolo i delicati e non più rimandabili temi dell'economia nazionale con l'Italia al bivio e le declinazioni locali di una crisi che sta schiacciando imprese e famiglie, senza nessuna distinzione, come hanno evidenziato anche gli ultimi dati di Union Camere. A lanciare l'SOS, l'ennesimo nelle ultime settimane, sono stati CNA, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative e Lega Cooperative. A rispondere all'invito però solo tre, ovvero Andrea Marcucci, Raffaella Mariani e Nedo Poli, dei sei rappresentanti di Parlamento e Senato, che erano stati invitati a prendere parte per un faccia a faccia all'incontro svoltosi nella sede provinciale di CNA. Assenti Deborah Bergamini, Massimo Baldini e Manuela Granaiola. Nel corso dell'incontro a politici presenti è stato consegnato un documento in cui il mondo economico lucchese chiede loro di fare scelte immediate e coraggiose e di agire senza indugi. Nella ricetta per il rilancio delle associazioni, tagli netti e forti alla spesa pubblica, la riforma delle pensioni e la riforma fiscale, la cessione del patrimonio pubblico, il credito, liberalizzazioni e semplificazioni e maggiori investimenti votati alla competitività strutturale, alla voce infrastrutture ed energia. Priorità le hanno definite CNA, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative e Lega Cooperative, che hanno chiesto a Marcucci, Mariani e Poli di sostenere nelle sedi romane, con forza, il progetto delle imprese per l'Italia.